Questa settimana cala leggermente il numero di nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese. L'incidenza si fissa intorno a 146 casi per 100.000 abitanti, mentre l'RT è grossomodo stabile, intorno a 0,85, quindi ancora al di sotto dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è anche in diminuzione e ormai si trova intorno alla soglia critica del 30%. Le indagini sulle varianti mostrano come la variante inglese sia ormai largamente predominante, oltre il 90%, mentre la variante brasiliana è stabile, intorno al 4%. Di raro riscontro le altre varianti. Data la situazione epidemiologica, è bene accelerare la campagna di vaccinazione e continuare a mantenere comportamenti prudenti.